E' vero che ha avuto riconoscimenti in tutto il mondo? Il mio tempo è denaro, diamo un senso a questa conferenza sciampa. Comande, comande. Ma come sei grato? E' venuto qui al Grand Hotel per riposarsi? Sì, effettivamente sono stato riconosciuto, diciamo, in paragnostica all'università di Ustica. Pur vicino a casa mia una volta mi hanno riconosciuto. Posso toccare e non toccare, a seconda, diciamo, delle mie esigenze, di una cattedrale all'università della Sorbolona. Poi ho scacciato un malocchio per scacciare poi in futuro per l'occhio e per l'occhio eppure un fanocchio che si aggirava nei dentori dell'università. Questo non so che 10 peccendo, 12 al massimo delle innumerevoli onorificenze da me accumulate in tutta la mia carriera. Cioè vedo, prevedo e stravedo per una squadra di calcio. Perfetto, l'esperimento è riuscito perfettamente. La conferenza di stampa è terminata, vi saluti. Che cosa sono tutte queste onerificenze? Che cosa sono tutte queste onerificenze? Che cosa sono tutte queste onerificenze? Io ho un certo diacolo con l'animale. Cioè mi piace diacolare con loro, preferibilmente con maialo, puccello, suini, cioè tutta la famiglia dei porcini. Poi molto ho dialogato in passato con cavallo e questo. Grazie. 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 Grazie.